Vai, 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 immagini confuse registrate da una bodycam, una piccola telecamerina in dotazione ai militari per filmare gli interventi, una sequenza video che rende l'idea dei momenti concitati e di pura adrenalina vissuti venerdì 13 gennaio alla sera in via Volagna a Comacchio. E' il salvataggio da parte dei carabinieri del quarantenne di Ostellato che era finito fuoristrada con la propria BMW cappottando in un canale a lato strada. L'abitacolo si era inabissato e l'uomo non riusciva ad uscire, un passante ha segnalato l'accaduto ai carabinieri che sono intervenuti per primi con due pattuglie cappeggiate dal Maggiore Luca Treccani, militari che si sono gettati nelle acque gelide per liberare il quarantenne. Una corsa contro il tempo perché nell'abitacolo stava finendo l'ossigeno. Una volta liberato l'uomo sano e salvo sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Porto Garibaldi che hanno provveduto con un autogru al recupero del mezzo. Il video del salvataggio è stato pubblicato mercoledì scorso dal comando generale dell'arma dei carabinieri sui canali social istituzionali e giovedì mattina il quarantenne ha fatto visita ai carabinieri della compagnia di Comacchio ai quali ha espresso il proprio ringraziamento.